Dagli studi di Activision, ecco a voi CTR-TV! Mi parla Stu! E io sono Stu! Esatto! Stiamo per dare inizio al nostro secondo Gran Premio, un evento in cui pazzi squilibrati si contendono premi insignificanti in sfide mozzafiato. Chic, sono entusiasta delle nuove sfide di questa stagione. Eh, i piloti dovranno mettercela davvero tutta per restare competitivi. Puoi dirlo forte, Stu! Stiamo per tornare indietro... Nel tempo! Hai visto? La nuova pista farà storia, anzi pre-storia! Vedo, vedo! Wow! C'erano ancora i dinosauri in quel periodo? Per fortuna qui siamo al sicuro. Cioè, saporito come sono, sarei un bocconcino delizioso. Lo so, sembro appetitoso! Wow, Stu! Ehi, aggiornamento! Ho una bella notizia da condividere con voi. Abbiamo alcuni piloti al loro esordio nel rombante e frenetico mondo delle gare. Guardate quelle guanciotte! Adorabili! Non ci sono altre sillabe per definirli, Chic. Sono veramente troppo belli! In guardia veterani, questi nuovi piloti saranno anche tanto carini, ma in pista vi faranno girare la testa! Mai sottovalutare i più giovani! Giusto. Ehi, Chic, non è che hai qualche nuovo kart da segnalare? Ma certo! E possiamo mostrarvi queste meraviglie immediatamente! Più? Più? Beh, la sua reazione parla da sola! Grazie per essere stati con noi e non provate mai a cuocere un uovo sul motore! Io vi ho avvisati! Grazie per la visione!